Allora, qual è il suo piano, signor Garrett? Che ne dici di comprare una banca? Che cavolo ne sappiamo di banche? Possedere una banca è come possedere l'altra faccia del settore immobiliare. Ci sono un paio di complessità che hai appena omesso. Tipo cosa? Oh, perdonami, non mi sono svegliato nero stamattina? Perché sono più che sicuro di sì. Sì, sono ancora nero. I got my head full of dreams Sono venuto qui per entrare nel settore immobiliare. Hai sposato un milionario, Eunice. Mi piace vedere neri avere successo. A volte investo anche parte dei miei soldi per aiutarli. So che sei ambizioso e intelligente. Sappiamo entrambi che non basta. È ora che qualcuno punti un bel paro perché le cose cambino. Stai iniziando a comprare immobili in quartieri che sono solo bianchi? Pensa al bene che potremo fare per la comunità. Ve lo sbattiamo in faccia. È esattamente quello che faremo. Dimmi, come diamine pensi di riuscirci? Chiediamo a Matt di rappresentarci. Volete che faccia cosa? Che tu sia noi per il resto del mondo. Non possiamo entrare in una banca a meno che non siamo la servitù. Avresti dovuto accettare il posto da autista. Non so nulla di finanza. Non so come si compra una banca. Ti insegneremo tutto quello che ti serve sapere. Devi saper parlare ai bianchi ricchi per sembrare uno di loro. Non puoi far finta di saper giocare a golf. Rendimi fiero. L'intero paese sta parlando di come due neri sono riusciti a comprare due banche piene di soldi dei bianchi e a prestarli ad altri neri. Dovete sapere di non poter mantenere nascosto il segreto a lungo. FBI, siete in arresto. Un nero cerca di aiutare altri fratelli. È intollerato. Bernardo, no! Anche una partita truccata è divertente da giocare. Se fosse facile, qualcun altro l'avrebbe fatto molto tempo fa. Sei un rivoluzionario. Grazie a tutti.